Benvenute! Oggi vi mostro il nuovo album Eau Rocher, l'album numero 12, che è valido fino al 1 ottobre del 2013. Mi raccomando, fino al 1 ottobre. Tantissime novità, tantissime offerte. Ci sono offerte imperdibili per la cura del viso, tutti i set, tantissime novità, ottime, perfette, proprio da sfogliare e soprattutto da non perdere. Quindi direi subito di sfogliare assieme il nuovo fantastico album, il numero Eau Rocher, che va fino al 1 ottobre del 2013. Eccoci, direi di partire subito a sfogliarlo. Come sempre l'indice, che è molto molto importante, sapete perché si vedono tutte le novità, le offerte e le promozioni. Prima pagina, i trattamenti viso adatti alla vostra età e al vostro tipo di pelle. Così riuscite sicuramente a individuare il trattamento perfetto per le vostre esigenze. Partiamo subito con la novità che è l'Elantige Global in offerta, perché il set con la crema ed il contornocchi, il set viene 34,95€, quindi wow. Volendo, a scelta, si può invece di questo set normale, il set per la pelle secca, sempre il contornocchi ed la crema per la pelle secca, sempre al stesso prezzo. In più, aggiungendo solo 17,95€, si ha, acquistando il set, la crema notte, che ricordiamo che a prezzo pieno avrebbe sui 25,95€, eccolo qui, quindi è in offerta. Si acquista il set ed è a un prezzo più basso rispetto al normale, sia anche il trattamento notte, quindi il trattamento completo. Stesso discorso vale anche per il serum vegetale, eccolo qui, la crema e il contornocchi a 22,95€, oppure sempre, se preferite o avete esigenze diverse, c'è anche il set per le pelli miste o il set per le pelli secche, sempre contornocchi e crema. E a prezzo vantaggioso si ha la crema notte a 10,95€ invece che al solito prezzo, quindi il set, aggiungendo a 10,95€, si ha un set completo occhi, crema giorno e crema notte. Stesso discorso, come sempre, andiamo avanti, è anche per il serum vegetale per la compattenza del viso, quindi sempre il contornocchi e la crema giorno a 24,95€. Vogliamo fare un set completo in offerta? C'è la crema notte a 12,95€, quindi tutto quanto completo ha un prezzo vantaggioso rispetto all'acquisto del singolo prodotto. Lo stesso discorso, ovviamente, va anche per l'ovale lifting, quindi sempre la crema giorno e il contornocchi a 24,95€ e la crema notte al solo 12,95€. Non vi sto a spiegare tutto il resto perché l'avete già seguito nelle altre pagine. La promozione vaida anche per la Rich Creme, quindi il contornocchi e la crema giorno a 24,95€, se vogliamo anche l'antirughe benefica notte, ovviamente, a solo 12,95€. Non possiamo dimenticare, ovviamente, anche il trattamento inositol vegetale, quindi la crema giorno completa, quindi completa anche della confezione perché sappiamo che c'è la ricarica. Tutta la confezione giorno, più il trattamento occhi a solo 19,95€. Vogliamo anche la crema notte, 9,95€. Vi ricordo che per questo prodotto è possibile acquistare singolarmente anche le ricariche, ma non sono comprese nelle promozioni. Non dimentichiamoci infine della Cool Solution, che adatta a tutta l'età, e ovviamente abbiamo il Roll-On Occhi e la crema Cool Solution a solo 24,95€. Vogliamo anche il mitico Elixir 7,9€ che sappiamo che è meraviglioso e super, super, super recensito positivamente. Solo a 12,95€ per il set completo. Ultimo prodotto, ovviamente, la Culture Bio, perché ci sono anche le creme completamente biologiche. Questa, infatti, è la Lifting Bio. Abbiamo la crema giorno e la crema notte, solamente a 24,95€ per tutto il set. E ora veniamo alle novità. Le novità sono le maschere viso. Abbiamo uno Scrap Gommage all'Albicocca con i noccioli di albicocca, quindi un gommage molto delicato, molto profumato, ma perfetto per la pelle, a solo 4,95€. E la nuovissima maschera effetto ghiaccio, con i mirtilli rossi. Questa maschera è freschissima, rinfresca ed è perfetta per la fine estate, meravigliosa, solo a 4,95€. Io vi consiglierei di mettere in frigo per un effetto ancora più fresco. Vogliamo il set completo? Abbiamo il set goloso albicocca più mirtillo, a solo 7,95€. Quindi, wow, una promozione da non perdere. Pronti per le promozioni? Perché abbiamo i gel doccia completamente biologici, quindi quella culture bio, a soli 2,95€. E invece i tradizionali, quindi il Jardin du Monde, le profumazioni, quella che volete, tra tutte quante le profumazioni, ognuna al singolo prezzo di 1,95€. Quindi è super offerta e sono ottime. Pronte per le novità? Perché abbiamo un nuovissimo gel doccia, Jardin du Monde, eccola. E la crema doccia ha la noce di macadamia e del Guatemala. È molto goloso ed è avvolgente. Ottimo, quindi è proprio da provare. E se siete in tema di novità, vi riporto alle pagine centrali, dove abbiamo una novità per la culture bio, quindi prodotti completamente vegetali. Li trovate nelle pagine interno. Eccolo qui, i trattamenti viso. Questa è una novità con il miele d'acacia, castagno, olio di girasole e avena bio. Eccolo qua. Il Nutrition, perché è molto molto nutriente. Abbiamo il set, prima vi mostrerei tutti i prodotti. Il set che comprende il latte detergente cremoso, la crema nutriente viso, il balsamo labbra nutriente. C'è anche il set promozione, eccola qui. Allontano un attimo. Il set promozione è per la prova, quindi abbiamo la crema nutriente viso e il latte detergente cremoso a solo 14,95 euro. Vi ricordo che sono completamente vegetali questi prodotti. Scusate, stessa linea comprende anche i trattamenti per il corpo e l'igiene. Quindi abbiamo anche il latte nutriente corpo, la crema malinutriente e la crema doccia nutriente. La crema doccia, vi ricordo che è in offerta 2,95 euro, assieme a tutti gli altri prodotti vegetali. Il set corpo invece comprende la crema malinutriente, la crema doccia nutriente e il balsamo labbra nutriente, quindi tutti i tre prodotti, a solo 9,95 euro. Quindi per provarli è un'ottima, ottima opportunità. Restiamo sul tema di bio, perché sappiamo che la prima linea completamente biologica è quella dell'aloe vera. E vi ricordo che anche quest'anno è in atto il progetto obiettivo 50 milioni di alberi. È un progetto molto semplice. Ogni prodotto della linea aloe bio, oppure i nuovi trattamenti, questi, quelli nutrienti sempre biologici, quindi sia l'aloe che i trattamenti nutrienti biologici, fanno parte del progetto per aiutare il pianeta. Quindi ogni prodotto acquistato verrà piantato un albero da parte della ditta Yves Rocher. L'anno scorso ha avuto un grandissimo successo e abbiamo constatato che è stato vero. Cioè, veramente sono stati piantati questi alberi. Quindi direi che anche quest'anno sarebbe un'ottima occasione per aiutare con un piccolo gesto il pianeta. Vi ricordo che ogni singolo prodotto fa parte di questa iniziativa. Quindi tranquillamente, il prodotto che più preferite, che volete, che volete acquistare per aiutare il pianeta, fatelo. Vi ricordo il progetto Piantiamo per il pianeta. Partecipo all'iniziativa i prodotti, tutti i prodotti biologici della linea aloe bio e la nuova linea nutrizione bio. Quindi ogni prodotto acquistato, un albero piantato. Quindi mi raccomando, partecipiamo a questa meravigliosa iniziativa. Eccoci, abbiamo concluso il nostro tour. Abbiamo sfidato tutto l'album. Ve lo ricordo, è l'album numero 12, che è valido fino al 1 ottobre 2013. Mi raccomando. Qui sotto ho il link per scaricarli in formato PDF. Ci saranno anche i link per contattarmi tranquillamente, per tutte le informazioni, per gli osmi. Sapete che sono sempre a disposizione. Ed non mi resta che augurarvi buoni acquisti, naturalmente profumati, con il magico attorno al mondo di Brochet. Grazie. 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 Grazie.